Le giornate lucane di odontoiatria si svolge a Maratea, oggi venerdì 22 giugno e domani sabato 23 giugno, il convegno che quest'anno giunge alla sua diciottesima edizione. Dalla dentiera all'impiantologia guidata, un percorso di qualità è il tema di queste due giornate. Si parte dal vecchio e dispregiativo concetto di dentiera per spiegare l'uso di protesi di grande qualità. Rivalutare il ruolo dell'odontoiatria come professione, non come commercio e per quello siamo partiti dalla protesi che volgarmente viene chiamata dentiera, per arrivare invece alle nuove metodiche più evolute come l'implantologia computer guidata e quindi per abbracciare tutto il campo protesico. Un richiamo a quanti considerano questa protesi un oggetto da banco e non un frutto di un percorso di trattamento e di diagnosi? Non si compra un prodotto di banco ma dietro anche alla protesi più semplice, quale può apparire la famosa dentiera, c'è uno studio, un lavoro e una professionalità. Presenti al convegno anche personalità politiche. È intervenuto oggi il presidente della provincia di Potenza, Piero Lacorazza, atteso per domani invece Attilio Martorano, assessore alla sanità della regione Basilicata. Ciò che compete a noi è costruire o aiutare a costruire quelle sinergie tra loro e il sistema sanitario nazionale affinché in una condizione di minore disponibilità di risorse per le famiglie, di minore disponibilità di risorse per lo Stato si possa in qualche modo evitare che anche la qualità degli interventi e dell'attività da loro svolta possa in qualche modo avere qualche ripiegamento. Una presenza a quella politica che vuole sottolineare come anche in un periodo di crisi economica il sistema sanitario nazionale può garantire prestazioni di elevata qualità anche a livello odontoiatrico. Mettere in evidenza proprio il ruolo del sistema sanitario nazionale e regionale per essere erogatore di quelle prestazioni che sono le prestazioni dedicate alle fasce meno ambienti. E proprio per evitare che queste fasce si vadano a rivolgere a odontotecnici, a figure professionali non abilitate che non sono garanzia di qualità.